Eccoci di nuovo insieme. Nell'incontro di oggi torno a parlarti di autostima. Ho scelto di tornare su questo argomento perché lo ritengo fondamentale per la nostra salute psicologica e oggi con questo video voglio illustrarti i sintomi principali di una bassa autostima. Ciao, io sono Angelo e in questo canale ti aiuto a migliorare la tua autostima, ti parlo di psicologia, di relazioni interpersonali e di come affrontare i problemi quotidiani grazie alla psicologia. Se ti interessano questi argomenti e anche tu stai percorrendo la strada della crescita personale, devi assolutamente entrare a far parte della mia community. Iscriviti al canale e mi raccomando metti subito un like per sostenere questo mio progetto. Ti ricordo che se vuoi essere avvisato ad ogni nuovo video devi semplicemente cliccare sulla campanellina delle notifiche. Oggi torno a parlarti di autostima. Ho scelto di riprendere questo argomento perché lo ritengo fondamentale per il nostro benessere psicologico. L'argomento dell'autostima è trasversale a tutta la psicologia. Lo affrontiamo quando parliamo di psicologia del lavoro oppure quando parliamo di psicologia dello sport o delle relazioni interpersonali. Ancora di più quando parliamo di psicologia e psicopatologia. L'argomento è così ampio e così complesso che non esiste una definizione di autostima scientificamente accettata da tutti i ricercatori e gli studiosi. Ogni ricercatore mette in evidenza una propria definizione. E io oggi voglio condividere con te quella che credo sia la definizione più generale ma anche più completa. Secondo me l'autostima è l'idea che la persona ha di se stessa delle proprie caratteristiche e del proprio valore. È la fiducia che la persona ha nelle proprie capacità. Gli elementi fondamentali di questa mia definizione ma che in verità concorda con tutte le altre definizioni è che l'autostima è fondamentalmente ciò che una persona pensa di se stessa. Se stai vedendo questo video molto probabilmente sei interessato all'argomento. Ti è mai capitato di pensare tra te che sei stupido, che sei incapace, che non riuscirai ad affrontare un problema? Ecco, quelli sono i classici campanelli di una bassa autostima. L'autosvalutazione delle proprie capacità, delle proprie qualità oppure delle proprie possibilità di successo. Oggi voglio presentarti quali sono gli otto sintomi principali che ti faranno capire se hai una bassa autostima patologica. Prima di spiegarti gli otto sintomi di una bassa autostima voglio ricordarti che questo è un video divulgativo. Ha il solo scopo di informare. Se vuoi una valutazione più approfondita della tua autostima chiedi una consulenza psicologica. Sicuramente il professionista sarà in grado insieme a te di capire come sta il tuo livello di autostima ed eventualmente aiutarti. Ma adesso entriamo nel vivo e vediamo qual è il primo sintomo di una bassa autostima. Come ti ho detto in precedenza il tratto fondamentale di una bassa autostima è la mancanza di fiducia nelle proprie capacità. Alcune persone hanno una bassa autostima specifica cioè credono di non avere le capacità per affrontare un determinato ambito della propria vita. Penso alle persone che hanno difficoltà sul lavoro o hanno difficoltà nelle relazioni interpersonali. Altre persone invece hanno una difficoltà generalizzata perché hanno un'idea generalizzata della propria incapacità non hanno fiducia nelle proprie capacità di affrontare le situazioni. Mi viene da pensare a Paola una ragazza che aveva poca fiducia nelle proprie capacità sociali. Infatti ogni volta che si trovava a relazionarsi con gli altri in gruppo con amici tendeva a rinchiudersi, a scomparire rispetto agli altri, a non intervenire mai. Questa sorta di auto isolamento la portava sempre più a svalutare le proprie capacità relazionali. Dall'altra parte c'è Luca che ha difficoltà a chiedere un aumento al proprio datore di lavoro perché crede di non meritarlo. Nonostante oggettivamente i suoi risultati siano superiori a tantissimi altri promotori finanziari, Luca crede di non meritare un aumento di stipendio. Cristina invece desidera ardentemente una relazione intima, una relazione di coppia, ma ogni volta che un uomo si avvicina l'allontana. Alla base di questo suo comportamento vi è l'idea di non essere attraente e che gli uomini si avvicinano a lei solamente per avventure sessuali. Queste sono solo tre storie e tre modi in cui si manifesta una bassa autostima e una bassa fiducia in se stessi. Molte persone credono che scusarsi eccessivamente, scusarsi sempre, sia una forma di educazione e di umiltà. In verità è fondamentale ed è giusto ed è sano scusarsi quando si è commesso un errore, quando si è fatto uno sbaglio, ma le persone con una bassa autostima tendono a scusarsi eccessivamente anche quando non sono responsabili di un eventuale sbaglio o di un errore. Alcune persone infatti chiedono scusa anche per errori che non hanno commesso o per situazioni che sono fuori dal loro controllo e dalla loro responsabilità. Quando ti parlo di questo mi viene in mente Marta, una ragazza che un giorno chiese al marito in prestito la macchina per andare a lavoro. Al ritorno la ruota si è forata, lei si è dovuta fermare e ha dovuto chiedere aiuto telefonicamente al marito. Si è prodigata in mille scuse, in scuse inutili, in quanto l'incidente non era sotto la sua responsabilità. Esprimere il proprio dispiacere è normale, sano e può essere anche un modo per risaldare la relazione, ma scusarsi no, perché scusarsi significa chiedere scusa per qualcosa di cui si è responsabile. Nel caso di Marta la ruota bucata non era una sua responsabilità, ma lei ha continuato a scusarsi assumendosi responsabilità che non aveva. Un comportamento opposto al precedente è quello di non assumersi responsabilità. Può accadere infatti che le persone con una bassa autostima cerchino di scaricare agli altri le proprie responsabilità, le proprie colpe, la responsabilità per errori fatti. Ciò è dovuto al desiderio di tutelare la propria immagine. Le persone con una bassa autostima percepiscono in maniera eccessivamente critica eventuali obiezioni oppure eventuali errori che loro stessi hanno commesso. Allo scopo di evitare queste profonde ferite, le persone cercano di evitare qualunque critica. Cercano anche rispetto a se stessi di non assumersi la responsabilità di eventuali sbagli, di eventuali incidenti. Questo atteggiamento nasce anche dall'idea di dover essere perfetti, ma di questo te ne parlo in un prossimo punto. Noi comunichiamo attraverso le parole, ma anche attraverso il nostro corpo. Le persone con una bassa autostima tendono ad avere una postura che ha quasi lo scopo di proteggersi dagli altri. Ad esempio, tendono le persone con una bassa autostima ad avere spalle curvi in avanti, lo sguardo basso che non incrocia mai lo sguardo dell'interlocutore. La persona con una bassa autostima vuole ranicchiarsi su se stessa, allo scopo di proteggersi dagli altri, ma anche di scomparire. Le persone che hanno una bassa stima di sé tendono anche ad avere un tono di voce molto basso. Alcune volte è solamente un sussurro. L'atteggiamento fisico si manifesta anche attraverso piccoli comportamenti, ad esempio l'isolamento, il rimanere in disparte, il nascondersi quando si è in mezzo agli altri. Non è raro infatti notare che le persone con una bassa autostima anche in momenti di festeggiamenti, momenti gioviali, rimangono all'angolo, in disparte, quasi a voler scomparire. La nostra vita è fatta di abitudini e le persone con una bassa autostima tendono ad avere abitudini nocive per la propria salute. penso alle persone che bevono in eccesso, oppure che fanno acquisti impulsivi, che si mangiano le unghie, oppure che fumano tanto. Questi comportamenti, queste abitudini hanno lo scopo di gestire lo stress e l'ansia. Queste emozioni diventano difficilmente gestibili e vengono gestite attraverso comportamenti e abitudini non salutari. Prova a riflettere sulla tua quotidianità. Ti capita di mettere in atto comportamenti non salutari per gestire le tue emozioni? L'idea di non valere, l'idea di non avere delle capacità può portare la persona con una bassa autostima a minimizzare i propri obiettivi. Prova a riflettere sulla tua vita. Ti capita di minimizzare ciò che desideri, le tue esigenze o i tuoi obiettivi? Questo può essere sintomo di una bassa autostima. Il problema principale di questo aspetto è che la persona non raggiunge di conseguenza ciò che veramente desidera, quindi tende con il tempo a vivere una vita frustrante, una vita non realizzata, non piena. Un altro aspetto fondamentale, un'altra conseguenza importante di una minimizzazione dei propri obiettivi è che si rischia di vivere e raggiungere gli obiettivi altrui. La persona che minimizza il proprio valore, che minimizza le proprie esigenze, i propri obiettivi, molto spesso fa affidamento alle esigenze e agli obiettivi altrui. Ci si trova poi a vivere non la propria vita, ma la vita degli altri. Mi piace ricordare spesso la frase di Seneca che dice che non c'è vento favorevole per il navigatore che non sa dove andare. Se non hai obiettivi chiari rischi di vivere una vita fatta solo di routine. Giorno dopo giorno puoi vivere quel senso di insoddisfazione, quel senso di frustrazione che rende opache le giornate. Fermati oggi e rifletti su quali sono gli obiettivi che vuoi raggiungere nella tua vita. Che cosa desideri ardentemente? Prendi un foglio e mettile nero su bianco. Se non sai come definire i tuoi obiettivi ti lascio in descrizione un link ad un video che ho fatto tempo addietro nel quale spiego come stilare gli obiettivi da raggiungere. Mi raccomando, vedi il video e definisci qual è la tua rotta. Se la bassa autostima si manifesta con una svalutazione del proprio valore, questa può manifestarsi ulteriormente con una svalutazione del proprio corpo. Le persone che hanno una bassa autostima tendono a non apprezzare le proprie caratteristiche fisiche. Ci sono persone che vedono in maniera catastrofica un piccolo difetto oppure che in generale non si apprezzano. Mi viene da pensare a Gloria che criticava enormemente il suo aspetto solo perché non le piaceva il suo naso che era più grande rispetto a quello degli altri. Lei esaltava questo difetto e andava a sminuire invece il resto del suo corpo, i fianchi, i capelli, gli occhi belli. Il concentrarsi solamente su quell'aspetto ingigantiva il suo stato di sofferenza e sminuiva l'idea che aveva di se stessa. Dall'altra parte c'è Franco che si sminuisce totalmente perché crede che l'uomo attraente debba essere alto e muscoloso. Essendo un ragazzo di corporatura normale e non molto alto credeva di non essere attraente, di non poter piacere e anche di non valere. Come puoi vedere la bassa autostima può intaccare enormemente il rapporto con il nostro corpo, con la nostra armonia. La persona con una bassa autostima crede che ponendosi degli standard elevati possa riacquistare la fiducia in se stessa. In un precedente video ti ho spiegato la relazione che c'è tra bassa autostima e perfezionismo. Se vuoi approfondire l'argomento ti lascio il link giù in descrizione. Ma il concetto fondamentale è quello che le persone con una bassa autostima credono che ponendosi standard elevati possano riacquistare del valore, possano mostrare di saper fare. Il problema è che un elevato standard aumenta enormemente il rischio di fallimento e di conseguenza rinforzare l'idea negativa che si ha di se stessi. L'autostima si acquisisce nel momento in cui si impara ad apprezzare i propri pregi ma anche i propri difetti, i propri punti di forza ma anche i propri limiti. Porsi degli standard elevati significa porsi standard irrealistici, standard che non sono umani e di conseguenza il non raggiungimento dell'obiettivo può nutrire ulteriormente una bassa autostima. Spero che questo video ti abbia aiutato a capire come la bassa autostima si può manifestare in tanti modi differenti e influenzare tantissime aree della nostra vita. Se hai delle domande su questo argomento, delle curiosità, tranquillamente puoi scrivere nei commenti. Ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram e su Facebook e da qualche mese e attivo anche il mio canale Telegram. Trovi giù il link per entrare nella mia community dove ti do sempre pillole di psicologia, pillole su come migliorare l'autostima, le relazioni. Mi raccomando iscriviti al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.